Case di riposo, sondrio per il momento immune dal dramma che ha colpito altre strutture. Qui gli amministratori guidati dal presidente Costantino Tornadù, la direzione e tutto il personale medico e socio-sanitario, dichiara il sindaco Marco Scaramellini, intervenendo con tempestività ed applicando con rigore le prescrizioni della regione, sono riusciti a far fronte egregiamente all'emergenza sanitaria, proteggendo nel migliore dei modi gli anziani ospiti. La situazione rimane difficile, prosegue il primo cittadino, poiché nonostante i comportamenti adottati, il virus subdolamente si è insinuato anche nelle nostre residenze per anziani, ma le opportune misure di isolamento immediatamente istituite hanno consentito di impedirne la diffusione. I casi di decesso sono stati molto limitati, inferiori allo stesso periodo dell'anno scorso, quattro, di cui due per covid-19. L'RSA di Sondrio, così come le altre, è gestita da una fondazione che agisce in completa autonomia in tutti gli ambiti, seguendo le direttive della regione. Nel pieno dell'emergenza covid-19, fa intendere il sindaco, è stata decisiva la costante interlocuzione e la fattiva collaborazione della casa di riposo con ATS della Montagna e Comune. Confronto e analisi in tempi rapidi hanno permesso di trovare soluzioni ai problemi o di contenerli, riducendo al minimo i contagiati ed evitando i decessi con misure di protezione, sanificazione e formazione del personale. Così si è azzerato il numero dei contagiati in via Lusardi e lo si è limitato in via Don Guanella. Doloroso ma fondamentale privare gli anziani del conforto delle visite dei loro familiari. Va reso merito agli operatori dello sforzo che hanno fatto per supplire a questa mancanza. Facciamo sentire la nostra vicinanza alla casa di riposo, scrive il sindaco. Ringrazio infine le famiglie degli ospiti per aver accettato di buon grado le rinunce ai sacrifici richiesti, nella consapevolezza che, come per tutti noi obbligati a restare a casa, sono indispensabili per superare questo dramma.